buona giornata amici di fano tv benvenuti alla rassegna stampa iniziamo con la lettura dei giornali le trasmissioni della giornata sono le 7 del mattino e vediamo subito il l'almanacco del giorno oggi si festeggia un santo a noi vicino san marcellino di ancona visse nel sesto secolo nella città d'orica di cui fu il sesto vescovo le cronache riportano che salvò la città da un furioso incendio portando con sé il vangelo e il fuoco si spense questo è san marcellino di ancona ovviamente questo è solo un unico degli episodi che contraddistinsero la sua vita ne fece tanti altri e fu un sant'uomo vediamo le previsioni del tempo vediamo che sulle marche c'è una nuvolosità diffusa ci saranno anche delle piogge nella giornata di oggi sembra che ormai il periodo di alte pressioni si stia rovinando si stia inquinendo per quanto riguarda l'arrivo di una perturbazione da nord e temperature sono ancora calde questa mattina si mantengono sugli 11 12 gradi per quanto riguarda le massime gli 8 gradi per quanto riguarda le minime il mare è leggermente mosso i venti spirano da sud questo per quanto riguarda le previsioni ed ora iniziamo la lettura dei giornali questa mattina partendo dallo sport dato che ieri è ripreso il campionato c'è stata una bella vittoria della vispesero è purtroppo una sconfitta del fano calcio vediamo come riportano le notizie i giornali il resto del carlino tre gol qualità e tanta sostanza vispesero batte il fiorenzuola 3 a 0 giocava fuori casa la viz danza sotto la pioggia questo bellissimo titolo i biancorossi ritrovano la vittoria dopo 13 partite brevi riduce gli under al minimo e l'esperienza paga insomma giocatori più esperti riescono avere un risultato più determinato brevi partita preparata bene e giocata meglio vediamo il titolo che parla del tecnico il tecnico si gode il primo successo della stagione peccato che è arrivato un pochino tardi vediamo anche quanto riguarda il corriere adriatico la visse firma un exploit fedato di paola e pucciarelli questi sono gli autori dei tre gol siglano le reti che valgono un importante successo a fiorenzuola i tre punti sono una vera e propria boccata d'ossigeno per i biancorossi che risalgono così la classifica i titoli ottimisti che stamattina si sprecano un primo raggio di sole il tecnico della vis brevi i ragazzi hanno dato tutto sfornando una prova molto aggressiva ci siamo alzati di un centimetro ma abbiamo ancora l'acqua alla gola ora bisogna insistere certo che una rondine non fa primavera un bel tris per interrompere un digiuno di 91 giorni è il commento che appare su questa bella vittoria e vediamo un po quello che hanno fatto le altre squadre il fano invece resta nel tunnel dice il corriere adriatico col nuova florida arriva il secondo ko consecutivo in casa e questa è una brutta una brutta serie la vittoria ormai manca da quattro giornate i laziali agganciano in classifica il granata che adesso sono un pericoloso più due nella zona di play out fano zero nuova florida due questo è il risultato ottenuto nella partita di ieri in casa al mancini e non si può mollare così dice mosconi ammareggiato a fine partita non abbiamo finale non abbiamo finalizzato e siamo stati subito puniti comunque vada dobbiamo reagire da squadra detto il tecnico assenze importanti ma non voglio alibi ci sono state delle assenze che hanno determinato una debacle così insomma inaspettata forse bisognava reagire con più determinazione i giocatori riflettano annullato il giorno di riposo si cerca appunto di insistere con determinazione per cercare di riparare al guasto ottenuto dannelli era boiato bisogna rimborcarsi subito le mani le maniche ha detto e vediamo anche altri titoli che riguardano le nostre squadre per quanto riguarda il calcio vediamo che c'è una prova di forza dell'urbino nel campionato di eccellenza il valdichienti va a tappeto valdichienti ponte 0 urbino 1 e l'urbino vince fuori casa gli ospiti vendicano la sconfitta in finale di coppa italia e agganciano i locali al terzo posto una gara a senso unico decide il gol di boccioletti invece il gallo canta costantini lo fa cantare per la maceratese un altro ko portieri i grandi protagonisti le occasioni non mancano mai biancorossi ancora una volta non concretizzano atletico gallo 1 maceratese 0 e vediamo anche il montecchio il montecchio nel campionato di promozione k sport montecchio sul velluto diverte e batte osimo stazione il risultato montecchio 2 osimo stazione 0 una gara anche questa a senso unico per i ragazzi di mister lilli che sciupono anche diverse occasioni a segno vanno dominici e passeri insomma una bella partita invece cade l'urbania il gabice gradara non molla doppio doppio pieralisi e la biaggia nazaro risale parità tra cagliese villa san martino mentre la squadra di velgoni fa 1 a 1 con il marzocca sono tre gare che vengono importate a fondo pagina dal resto del carlino cagliese 2 villa san martino 2 gabice gradara 1 olimpia marzocca 1 biaggia nazaro 2 urbania 0 questa è un po l'ultima partita che dimostra una debacle e invece per quanto riguarda la voelle vediamo che fa una prova di forza pesaro si prende la final eight la voelle travolge treviso con un terzo quarto a tutto gas e conquista con un turno d'anticipo il pass per la coppa a torino e vediamo anche una bella vittoria che segna la vigilar una bella vittoria per il volley vigilar da mille è una notte dice il titolo batte garlasco e torna in vetta eccolo qua il titolo che appare appunto per il volley la vigilar batte il moyashi garlasco 3 a 1 ha vinto il primo sette poi ha perso il secondo e poi ovviamente ha vinto tutti gli altri la vigilar torna in vetta seppure in coabitazione con il pineto il pineto purtroppo ha perso l'ultimo confronto la prima partita dell'anno vede una virtus con tanta voglia di tornare a correre ed ecco che in casa con il garlasco tira fuori le unghie e segna un bel 3 a 1 questo un bel risultato per quanto riguarda lo sport delle nostre squadre ed ora diamo un'occhiata invece alle altre notizie che appaiono sui giornali questa mattina vediamo la pagina di fano sul corriere adriatico dove il presidente dell'associazione albergatori luciano cecchini lo vediamo qui in questa fotografia fa un bilancio di tutte le presenze turistiche per quanto riguarda le feste natalizie si fanno tante iniziative tante manifestazioni si organizzano eventi questo perché perché questo dovrebbe produrre economia dovrebbe fare lavorare i negozi il commercio dovrebbe lavorare il settore alberghiero dovrebbe far lavorare anche il settore manufatturiero perché poi tutto è una catena il bilancio natalizio del presidente degli albergatori cecchini dice un buon viatico per le prenotazioni estive certo che le manifestazioni natalizie non sono il clou delle presenze turistiche che si svolgono durante l'anno per quanto riguarda la nostra iviera non siamo la montagna non abbiamo delle forze d'attrazioni così così importanti da attirare migliaia di persone però abbiamo delle peculiarità che possono fare da promozione per la stagione estiva è stato soprattutto il turismo sportivo e quello culturale ha detto luciano cecchini ad attirare i turisti nel periodo delle festività natalizie che si è appena concluso nella nostra città un buon afflusso di clienti hanno avuto diversi alberghi che sono rimasti aperti e nel trarre un consuntivo del mese di dicembre delle prime giornate del nuovo anno il presidente degli albergatori dice non c'è stato un grande afflusso ma c'è stato un movimento soprattutto un movimento dovuto alle manifestazioni sportive il torneo di voli che si è svolto alla fine di dicembre ha procurato agli alberghi mille presenze il che non è poco e poi è stata molto apprezzata la mostra sui registri malatestiani una mostra unica a livello nazionale che ha attirato diverse persone da altre regioni e poi altre manifestazioni di tipo culturale quelle che ci sono svolte all'interno del teatro della fortuna quelle che hanno così vivacizzato la città dai balconi il il jazz il winter jazz che ha organizzato dei concerti sui balconi della città balconi caratteristici quindi anche concerti che sono hanno contribuito all'atmosfera di natale poi gli addobbi della città il corso il pincio piazza 20 settembre che è stato il teatro di grandi manifestazioni come l'ultimo quello della befana dove migliaia di persone sono accorse in piazza per ricevere gratuitamente per i loro bambini 1200 calze ripiene di dolciumi ebbene è stata una un dicembre un dicembre che ha valso una bella promozione a livello nazionale della città di fano ed ora si pensa al carnevale il carnevale prossimo inizia formalmente il 17 di dicembre il giorno di sant'antonio il 15 però ci sarà la benedizione degli animali in piazza 20 settembre e poi tutte le manifestazioni del carnevale con le tre grandi sfilate del 5 del 12 e 19 febbraio prossimo ed ora una lamentela strade dissestate a rischio per i cittadini la espone il consigliere comunale della lega scopelliti il quale evidenzia come diverse strade cittadine ormai lo sappiamo lo sanno soprattutto i residenti sono dissestate le asfaltature procedono a rilento ormai siamo nell'inverno e quindi difficilmente i lavori si possono fare per asfaltare le strade occorrerà attendere periodi più caldi i consiglieri comunali della lega comunque hanno presentato un'interrogazione consigliare con la quale chiedono non solo la ragione dei ritardi dei lavori di riqualificazione delle strade via bellandria via galilea via fossa sant'orso solo per citarne alcune che non sono state ancora asfaltate e sono veramente in situazioni molto degradate e quindi c'è uno stimolo perché questi lavori vengono compiuti bene e vengono compiuti al più presto. In quest'altra pagina del Corriere Adriatico invece si parla di scogliere e il vice sindaco Cristian Fanesi annuncia la attribuzione dei lavori per il consolidamento della diga foranea del porto. La diga foranea del porto è quella lunga scogliera circa 900 metri che protegge il porto dalle mareggiate. Ebbene la forza delle onde è stata così violenta nel corso del 2022 che molti massi si sono spostati, qualcuno ha ceduto. Insomma è stata posta in pericolo anche la passeggiata dell'esippo. Ecco perché si è proceduto all'attribuzione dei lavori di consolidamento di questa barriera per un importo consistente circa mezzo milione di euro e i lavori sono stati attribuiti alla ditta Sefa Italia di San Vitaliano in provincia di Napoli la quale si è aggiudicata l'appalto con un ribasso del circa del 17,228%. Quindi rimane anche una cifra per magari fare altri interventi da parte dell'amministrazione comunale. Il vice sindaco Cristian Fanesi risponde anche in questo articolo all'assessore regionale Aguzzi che aveva evidenziato come il comune di Fano si fosse disinteressato delle scogliere di Ponte Sasso. Il vice sindaco dice che non è vero e qui elenca tutti gli atti che sono stati in favore, stati fatti per sollecitare gli interventi oppure per farli direttamente per la cura e la manutenzione delle scogliere esistenti e per farne delle nuove. In questo fondopagina invece abbiamo la promozione di un libro e un libro particolare. Si tratta di un vero e proprio libro d'autore con copie numerate come del resto Paolo Talevi, il noto fotografo cittadino, è abituato a fare. Ne ha fatti diversi, ne ha fatti sui circoli anziani, ne ha fatti sul mercato delle erbe ed ora ha fatto un libro d'autore, perché è veramente un libro d'arte, sulle antiche osterie di Fano, sulle vecchie osterie di Fano, quelle osterie che ormai sono scomparse e che fino agli anni, alla fine degli anni 70 ancora costituivano il luogo privilegiato di tante persone. Erano però sul finire della loro esistenza, soppiantate dai bar che avevano una forza d'attrazione diversa, le osterie erano scarne, avevano solo tavoli sedie, ci si poteva giocare a carte, in realtà i bar erano più rifiniti, avevano i bigliardi, avevano forze d'attrazione più consistenti, avevano anche la televisione, quindi avevano la possibilità di attrarre gente magari di un ceto un po' più elevato. Ma queste vecchie osterie per tanti anni hanno fatto l'immagine e le atmosfere di Fano ed ecco che le fotografie fatte da Paolo Talevi negli anni 70 rievocano questi ambienti così particolari. E vediamo che ne vengono menzionati alcuni, per esempio l'Osteria del Marottese in via Garibaldi, quella del Plat, il cui proprietario ovviamente era Calvo, che si trovava in via Martino da Fano, quella di Tiglio, diminutivo di Attiglio, in via Paoli, quella di Bragaglia in via Monaldi, quella del Spias in piazza Marcolini, quella del Corridor, caratterizzata da un lungo corridoio all'inizio del corso Matteotti, oppure quella di Emma a fianco, il cinema Boccaccio, il vecchio cinema che non c'è più nei pressi della piazza in via De Pili. Ebbene, sono luoghi che vengono così riportati alla memoria di tante persone che magari le hanno anche frequentate e con queste fotografie costituiscono una documentazione unica nel suo genere, grazie a Paolo Talevi. Passiamo ora a Terre Roveresche, promessa mantenuta da oggi in servizio il secondo scuolabus. È una promessa che aveva fatto il sindaco di Terre Roveresche, Antonio Sebastianelli. È stato lo stesso sindaco, infatti, a darle la notizia dall'attivazione di questa mattina del secondo scuolabus dedicato per gli allunni della scuola primaria che dal municipio di Piagge devono andare a San Giorgio, quindi un servizio in più per le famiglie. Vediamo ora qualche notizia che riguarda la Regione Marche. Vediamo che si parla di sanità all'inizio delle pagine e si parla soprattutto di falla nella sanità, ovvero della mancanza dei medici. Mancano all'appello più di 300 medici. Il problema riguarda in particolare l'urgenza e la rete territoriale. Nel pronto soccorso sono tre i punti dove mancano in modo particolare i medici. Sono il pronto soccorso, il 118 e la pattuglia dei medici di base. Sono questi appunto i settori dove c'è la carenza dei medici. Nel pronto soccorso degli ospedali regionali c'è una carenza di 93 unità, mentre per la medicina di base, ovvero il medico di famiglia, si sale a 147. Arranca anche il 118 che lavora con 66 operatori in meno rispetto alle necessità. Ebbene quella di assumere nuovi medici è una delle esigenze più importanti della sanità. Eppure c'è ancora un blocco per quanto riguarda, non dico un blocco, c'è uno schermo per quanto riguarda l'ingresso alle università di medicina. Della parte mancano i medici, dall'altra invece si ostacolano l'ingresso di medici in facoltà. Picchi di 190 accessi giornalieri. Non ci fermiamo mai, così è dura. La Contucci, primaria del pronto soccorso di Torrette, dicono arrivano troppi codici verdi. E questo ovviamente è un po' il cane che si morde la coda, perché i codici verdi dovrebbero essere curati dai medici di base, ma i medici di base anche qui sono carenti e quindi uno cosa fa? La prima cosa che magari ha un dolore o qualcosa va al pronto soccorso. Doppio shock, bollette carburanti a rischio micro e piccole imprese. Ebbene, il caro carburante sta causando gravi problemi alle imprese e anche alle famiglie, cioè ai lavoratori che devono recarsi al lavoro in auto. C'è il report della Confartigianato. Nelle macchie sono 25.000 e garantiscono 91.000 posti di lavoro. ovvero le piccole imprese. Un doppio shock, bollette e carburanti. In ginocchio le micro e piccole imprese, potenzialmente 25.000 nelle marche, che rappresentano oltre 91.000 posti di lavoro. I rincari sono ormai così ingenti che non ci sono più differenze tra le aziende, quelle più energivore, quelle più che consumano energia elettrica e quelle che lo fanno di meno. Però il danno è lo stesso. Lo rileva la Confartigianato, che in un'analisi settoriale sul peso della spesa per prodotti energetici sul fatturato, individua i 43 comparti maggiormente esposti appunto al caro energia. E ce ne sono veramente tanti, dalla ristorazione alle lavanderie, dall'assistenza sociale e residenziale agli asili nido, dai centri di benessere alle palestre, senza dimenticare tutto il settore del trasporto merci di persone che subiscono i rincari del pieno. E vale anche per la logistica, il magazzinaggio, soprattutto se lavora nel refrigerato, che consuma molte, molte energie. Ci sono ditte che producono cemento, agroalimentare, chi stampa la plastica, chi lavora la carta, il metallo, il vetro, il legno, ma anche i gestori di acqua e di rifiuti che sono in grosse difficoltà. E se qui il governo non interviene il problema si fa veramente enorme. E invece per quanto riguarda la pagina di Pesaro dobbiamo rilevare che c'è un nuovo impasto di giunta. Il sindaco Ricci lo ha fatto, come ha fatto anno scorso, in prossimità dell'arrivo dell'anno nuovo. Giunta, mini rimpasto Ricci. Esce Morotti all'ambiente va Conti. Dopo i Cinque Stelle gli assessori si allargano ai Verdi, in maggioranza l'ex leghista Biagiotti. Ebbene, qual è stato il cambio di giunta del sindaco Ricci? Ebbene, quest'anno ha aspettato la chiusura delle feste per l'annuncio del mini rimpasto di giunta, probabilmente l'ultimo del Ricci Bis, prima che scada il mandato elettorale. Mirando all'assessorato all'ambiente e coptando i Verdi. Fuori Eidi Morotti, espressione della lista civica Il Faro, dentro Maria Rosa Conti, ex PD, ora saldamente in Europa Verde. L'impressione del giornalista è che il sindaco stia preparando la transizione amministrativa verso il 2024, assicurando sintese sempre più larghe e solide nell'alveo del centro-sinistra. Una visione questa che è iniziata nel 2020 con l'ingresso in giunta della pentestellata Francesca Franquellucci e che, dallo stesso primo cittadino, è stata più volte rimarcata a livello nazionale come l'esempio da seguire per il rapporto, per stabilire un buon rapporto con i Cinque Stelle. Però la prima grana del neossessore è l'antenna che svetta a Novilara. Ci sono diversi comitati che a Pesaro sono sorti contro il proliferare delle antenne. L'antenna Iliad dei 5G svetta nel cuore del centro abitato di Novilara. E ora il quartiere Colline e Castelli chiede a Comune e società gestore di fare marcia indietro per una diversa collocazione. Ebbene, a questi si associano Lega Ambiente e tutti gli ambientalisti. Anche a Novilara nasce un altro comitato, il terzo, dopo i casi di Soria e Montegranaro Muraglia. Quindi sono tre comitati che protestano contro il proliferare delle antenne. Vediamo che oggi è il primo giorno delle iscrizioni scolastiche, in modo particolare per quanto riguarda le scuole materne. Materne, nessun bimbo a Pesaro resterà fuori, ma non è soltanto l'effetto culla vuota. C'è anche un aumento della offerta degli asili da parte del Comune. Proprio nel 2020 il calo delle nascite. Il Comune investe su nuovi pressi e personale a garanzia dei posti. Quindi non ci sarà nessun eccesso di prenotazioni da overbooking riguardo la disponibilità dei posti, ma non saranno necessarie né liste d'attesa né lunghe attese. Ci sono aule per tutti. Circa i 1.900 bambini e bambine, in arrivo nella scuola dell'infanzia, troveranno posto. Decisivo il picco del calo delle nascite, oltre il 18%, insomma i bambini sono di meno rispetto al passato, ma anche, come dicevo, soprattutto incide l'offerta ampia dei nuovi istituti, quello per quanto riguarda Pesaro. E intanto la provincia batte cassa alla Regione. Un contenzioso annoso si chiude dopo 30 anni. All'ente pesarese sarà corrisposto oltre un milione di euro. Quando il ricorso è iniziato c'erano ancora, pensate, le lire. Ebbene, il debito si chiuderà con il riconoscimento da parte della Regione, grazie anche ad una esecuzione, ad una sentenza del Tribunale di Ancona, datata addirittura 1993. Poi ci sono stati le lungaggini, i ricorsi, eccetera. In pratica la Regione riconosce il debito di 1.297.912,55 euro per il pagamento di crediti derivanti dalle funzioni conferite di spese sanitarie. Ebbene, che cosa era successo? Era successo che il Comune di Pesaro aveva fatto delle spese nel settore della sanità che invece spettavano alla Regione. La Regione non le ha mai rimborsate. C'è stato dunque questo contenzioso che ora si risolve con questo accordo per oltre un milione di euro. Subito i 50 posti letto in più di ortopedia gli richiede il consigliere regionale Biancani. I 50 posti letto in più di ortopedia vengono rivendicati anche dalla nuova clinica che dovrebbe sorgere a Carignano nell'ambito delle terme. In realtà la Regione Tlatita ancora non li ha assegnati, non sa se assegnarli al pubblico oppure al privato. Sono in ballo diverse richieste. Comunque Biancani stimola la Regione con una interrogazione chiedendo appunto di decidere sulla sorte di questi 50 posti letto perché i cittadini non possono più aspettare. Chef per i poveri. I ristoratori portano a tavola la solidarietà a Monbaroccio. Sono tre ristoratori che durante le feste hanno preparato cibi per le famiglie povere e è stato veramente un atto di grande generosità. Invece per quanto riguarda la pagina di Urbino vediamo che la città non si arrende di fronte alla decisione del Vaticano di accorpare la diocesi con quella di Pesaro. Diocesi, il comitato, non si arrende, preoccupa la funzione pastorale. Il portavoce Magnanelli invita a resistere all'unione con Pesaro. Gambini, il sindaco, oggi attiva gli altri sindaci e cerca di coinvolgere anche gli altri sindaci dei comuni che fanno parte della diocesi di Urbino a resistere contro questa, ormai in extremis, contro questa decisione che priva Urbino di una istituzione importante. Avere una diocesi, avere il Vescovo è il segno anche di una comunità solidale, di una comunità che rappresenta qualcosa, accorpare un po' tutto insomma. Però questa è una decisione che ormai il Vaticano sta assumendo a livello nazionale e quindi anche Urbino sta cadendo sotto la scure dei tagli. Vedremo come andrà a finire. Abbiamo anche qualche notizia sul resto del Carlino. Sul resto del Carlino vediamo che a Fano ci sono ancora problemi per quanto riguarda le fermate dei treni. Arriva il treno dei tedeschi ma bypassa Fano. La città della fortuna risulta ignorata dal collegamento ferroviario che da giugno unirà la riviera Adriatica alle principali città di Germania e Austria, da dove peraltro arriva il maggior flusso dei turisti. Quindi non fermare a Fano significa penalizzare ulteriormente la città della fortuna. Lo fanno presenti diversi esponenti. Lo fa presente il segretario provinciale e assessore di Pesaro Riccardo Pozzi, il sindaco di Fano Massimo Seri, l'assessore al turismo di Fano Etienne Lucarelli, Mirko Pagnetti, consigliere comunale, e Anteo Bonaccorsi, consigliere comunale di Mondolfo. Si tratta di una penalizzazione che l'ente Ferrovie ha ormai attuato per quanto riguarda Fano e ormai credo che non ci sia più niente da fare ma staremo a vedere. Siamo molto molto in ritardo, chiudiamo quindi la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento a domani alle 7. Grazie per l'ascolto e a risentirci. Grazie.